L'Europa volta le spalle all'Italia lasciata da sola a gestire l'emergenza migranti. È caduta nel vuoto la richiesta di Roma rivolta a Frontex a martedì di modificare le regole dell'operazione Triton e prevedere che le navi cariche di migranti possano approdare anche in altri paesi. Il direttore esecutivo dell'Agenzia di Guardia Costiera Europea a mercoledì è stato convocato all'Europarlamento per un'audizione pubblica. Un piano operativo per essere adottato ha bisogno dell'accordo di tutti gli stati membri partecipanti, ha affermato quindi non si tratta di una questione tra l'Italia e Frontex. Ho ascoltato la richiesta italiana ma non ho visto stati membri disponibili ad accoglierla. Il governo italiano sta preparando un codice di condotta per le ONG accusate di incoraggiare i trafficanti tramite le loro attività di salvataggio in mare e di portare migliaia di migranti nei porti italiani sempre più al limite delle loro capacità di accoglienza, critiche infondate come spiega Medici Senza Frontiere. Nel momento in cui le autorità italiane coordinano i soccorsi sono anche responsabili di determinare il porto di sbarco in assenza di accordi bilaterali di altri paesi e considerando che alcuni paesi come la Libia e la Tunisia non possono sicuramente essere definiti dei porti sicuri di sbarco, l'Italia ha l'onere di facilitare lo sbarco di queste persone. Gli interventi europei per contrastare il traffico dei migranti si sono rivelati inefficaci come rivela un rapporto del Parlamento Britannico che definisce un fallimento la missione navale Sofia.